Il 26 e 27 novembre Palazzo Gradari di Pesaro ospita per la prima volta Terremare Wine Fest, una nuova manifestazione dedicata alla degustazione di eccellenze vinicole organizzata dall'Enoteca Terremare in collaborazione con Connubio di Vino e il patrocinio del Comune di Pesaro. Un weekend goliardico dove possono divertirsi assaporando quelli che sono un po' i gusti dei vini locali ma anche di quelli nazionali in una rappresentazione che lì presenterà a tutte le regioni i vitigni più particolari d'Italia. Avremo 60 cantine, quasi 130 etichette di vitigni differenti, la parte Leona la farà le marche insieme alla Lombardia dove abbiamo le due sedi e dove rappresentiamo una molteplicità di operatori. L'ingresso sarà gratuito, le consumazioni saranno a pagamento e l'utenza potrà scegliere tra diversi abbonamenti, uno light dove darà la possibilità di bere 4 volte a 12 euro e una un po' più evoluta con 6 bevute a 15 euro. A ogni cliente che sottoscriverà l'abbonamento verrà dato un calice omaggio che poi potrà tenersi e un portacalice per degustarle in tranquillità durante l'evento. L'evento verrà svolto nel weekend del 26-27, il sabato a partire dalle 16 fino a mezzanotte circa e la domenica dalle 11 fino alle 20-21. Terremare Winefest avrà anche un curioso abbinamento al Museo della Bicicletta che da quest'estate è collocato negli spazi di Palazzo Gradari. Un bel evento che mette insieme la passione per la bicicletta e quello che può essere un integratore naturale, il vino con la valorizzazione appunto di quella che è anche una passione del nostro territorio e quella enogastronomica. È un evento prova, è la seconda tappa di Terremare Winefest, la prima è stata in Lombardia e la seconda sarà a Pesaro e anche in virtù di Pesaro Capitale della Cultura 2024, in virtù anche dell'inaugurazione del Museo della Bicicletta che c'è stato a giugno 2022 e volevamo unire in questa occasione due elementi strategici che uno è la bicicletta e quell'altro è il vino. Quindi invitiamo tutti il weekend del 26-27 novembre a venire a Pesaro per questo bel evento promosso da Terremare Winefest e promosso da Connubio di Vino e dal Comune di Pesaro con la grande collaborazione di Dario Corsi che è il nostro patrimonio per quel che riguarda la bicicletta, la conoscenza e le competenze. Poi ci saranno anche delle cose simpatiche che invito tutti a venire a vedere.